Io ho molta palla, perché comunque è qualcosa che non ti puoi aspettare assolutamente rispetto a quello che puoi essere un giornalista, però ecco appunto ieri è stata la cena, sono uscito un poco in giro e fondamentalmente mi sono ritrovato in mezzo a questi coetanei, è stato bellissimo, penso che l'iniziativa del Giffoni avvicini veramente i ragazzi al cinema. Ma più che altro ci hanno spaventato dicendoci no preparatevi perché la masterclass dei ragazzi vi faranno il culo, preparatevi. Io quindi oggi inizio a pensare a tutte le domande che potevano fare, ma mi hanno detto non pensare a che domande ti possono fare perché tanto ti stupiranno, ti faranno delle domande che non ti aspetterai mai, quindi forse non ci vado questa masterclass, forse mentre gli altri vanno di là io scappo dall'altra parte, penso che farò così.